si danno le risposte. Vale per tutti e anche per me. Non c'è eccezione possibile a questo grande principio. Non ci sono eccezioni. L'articolo 21 dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Ringrazio il mio vostro. Moni Ovadia, la rivista Micromega, tutti i volontari e voi che dell'articolo 21 siete stati i migliori interpreti. Grazie. Solo un istante, cambiamo la batteria al microfono. Sono 11! Sono 11! Sono 11!